Prima ha puntato il coltello alla gola del commesso che voleva impedirgli di prendere una birra senza pagare, poi gli ha sferrato un pugno. Alla fine ha tentato la fuga ma sulle sue tracce si sono messi subito i carabinieri che nel giro di 24 ore lo hanno rintracciato e fermato. È successo lo scorso giovedì a San Giovanni Valdarno dove l'uomo è entrato in un negozio di alimentari ed ha preso una birra dal frigo e se n'è andato senza pagare. Poco dopo ci ha riprovato ma si è trovato di fronte il commesso del bar che gli ha chiesto di pagare la precedente consumazione cercando di impedirgli di prendere un'altra bottiglia. Ed è a questo punto che il giovane ha tirato fuori un coltello dal marzupio e lo ha puntato alla gola del negoziante, poi lo ha aggredito ed è scappato. Fortunatamente una guardia giurata fuori servizio che si trovava per caso sul posto ha notato la lite e ha dato subito l'allarme ai carabinieri che nel giro di poche ore sono arrivati ad identificare il trentenne che è stato denunciato alla procura di Arezzo per tentata rapina a mano armata.